Ecco la nostra novità, lo scola tutto, qui si può scolare tutto, poi vi farò vedere, ma soprattutto è la comodità di questo attrezzo, perché piegato, lo vedete, si piega su se stesso, vedete, si appoggia, poi si va a ripiegare ancora, può stare tranquillamente dentro a uno scolapiatti, è molto fine, molto stretto, quindi di conseguenza occupa poco spazio, vedete? Però noi adesso andiamo ad aprire e vi farò vedere intanto con il suo utilizzo come lo possiamo utilizzare. Un altro utilizzo per il nostro scolatutto è anche quando si lava l'insalata. You've got me feelin'. Grazie a tutti.